No one will take this great nation away from me. God bless this. God bless America. Ciao a tutti amici, benvenuti sul padrino 2. Siamo a New York e ci siamo appena portati qui dalla nostra avventura in Florida perché oggi dobbiamo fare una cosa estremamente importante. Allora, per prima cosa dobbiamo uccidere questo mafioso che si trova qui, dobbiamo uccidere con un'esecuzione a pugni e poi dobbiamo rubare questa banca e distruggere il palazzo di Tony Rosato. Quindi non prendiamo tempo, il mio si è messo a correre già. Voglio la macchina. Eh, andiamoci questa. Chiamate aiuto. Grazie. Si può sapere che cazzo vuoi? Quante auto hai rubato, eh? Chi ho le mani. Chiamate la polizia. Grosso sbaglio. Forza. Strangola lo strato. Jamie, non parlo. Saresti dovuto scappare quando ancora potevi... Morto. Bene. Ottimo. Bene, questo è morto. Vediamo se possiamo fare ancora qualcun altro. Vediamo. Si lotta. Non farmi del male. Ci penso io, dai. Chi sei? Eccoci qua. Ah, proprio subito, subito. Non mi vede? No, no. Fammi fare a modo mio. Addosso! Lo vedi? Laggiù! Ma come una polizia. Scappiamo. Aspetta che... No, 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 non vi picchiate, no? Ma non vi picchiate, no? Perché? Non c'è bisogno. Non c'è, non c'è... Ma perché vi scannate? Non c'è bisogno. Tutto questo... Non c'è bisogno di tirarti dietro. Non c'è bisogno di tirarti dietro. Non c'è bisogno di tirarti dietro. No! Questa situazione si parte. La quaggiù, sopra il peccato. Spermi tutti. Torniamo a casa. no 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 ma si mettiamo a bu- cazzo scappiamo scappiamo via 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 devo ricordarmi sul sedile posteriore della sua cabrio beh sono andati al drive in che ti aspetta sbrigati non costringerti a fare ancora del male ecco perché io non guido l'aiuto per ripulire la zona il loro sangue è sulle tue mani vedi di resistere a un altro colpo ah ma era un civico pensavo che era un poliziotto e vabbè buttiamo no la mia auto la mia auto aiuto anche auto chi è quello chi è bene ok basta ma ora scusa no come fanno a sapere ma come è possibile voglio che si apre prendi questo beh dai ho capito fai saltare tutto ma merda c'ero quasi ok ditemi se arriva qualcuno ben fatto sta per saltare in aria voglia di far saltare qualcosa non fare un altro passo ecco un altro cliente bene 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 doveva un'auto doveva un'auto aspetta 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 che prima cosa dobbiamo tornare a casa anzi no visto che siamo vicini al panazzo corneone andiamo da don con me faccia del male me ne vado su io ah proprio lui voi no no ok adesso ci aiutano pure i nostri mafioli guarda guarda tutti quanti poi attire i loro colpi copritemi forza d'amore questo posto brucerà in un attimo questo è il nostro palazzo un po' bruciare ecco un altro bastard ok basta visto che avevo 10.000 allora entriamo nel palazzo un altro pacante vediamo di prendere qualcuno vi faccio vedere come si fa la tante rinne cacate e andiamo a distruggire il palazzo di Tony Rosato e finisce con la cosa vorrei mui dovremmo ma chi sai che sarò io se c'è qualcuno che vuole allora saprai anche perché sono qui non sono né troppo stupido né troppo sveglio so cosa voglio capito? ORAN che cazzo significa? qual è la tua storia? parlami di te in tutte le bande sono sempre stato quello dell'altrimenti tipo consegni i soldi al capo altrimenti li darai a me e ti strapperò le budella per il disturbo wow che mi dici delle tue abilità? che sai fare? da piccolo sono stato colpito mentre pulivo un negozio è stato allora che ho deciso di imparare ad aggiustarmi da solo io lo prendo solo perché è un medico voglio partecipare ma tu sei sicuro? sei dei nostri benvenuto nella famiglia bene e tu fai parte della famiglia dividiamoci un cecchino al riparo noo la spalla non so stronzo non so stronzo non mi avete una fossa ehi cazzo eccolo qui ok questa zona è pulita brucia tutto bruciamo tutto vai domi lo chiamano così non è compa mia vuol che il mio brucia baby brucia? bene ottimo sta a te mettiamo giù questa madonna beh a meno l'animazione oh cazzo no 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 attenzione vedo un cecchino forza di qua andiamocene mi hanno sparato non ce la faccio questo messaggio lo capiranno o no sparare un cecchino accendite ferottine bene possiamo avanzare ah ma quando il tonio l'ho usato aspetta 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 perfetto anche il tonio rosato è morto c'è ormai senza continuare vediamo poi c'è una cassaforte apriamo oh cazzo è il posto ideale per una bomba capo sistemati ci penso io a quella cassaforte manca un attimo solo un istante ben vabbè 2500 donna e così che ne dici di fermarci da rosa cose fatte abbiamo tempo ma è meglio non andare là fuori dai è proprio il contrario fuori bene ragazzi il video può finire qua abbiamo distrutto un'altra famiglia bene ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto spero che vi ha fatto divertire e noi ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi